L'Olimpia agnonese batte il Monticelli per 6 a 0 e le emozioni cominciano prima dell'inizio della gara. A centrocampo arriva un ragazzo speciale, tifoso appassionato di Erminio Rullo, già dai tempi del Napoli. Lui, campano, continua a seguire senza sosta il suo beniamino. Così la società Granata ha deciso di premiarlo con una maglietta del suo idolo. Tornando al match, una partita in cui Granata sono stati inarrestabili nella loro corsa verso la salvezza, mentre il Monticelli si è visto davvero poco davanti alla porta di Venturini. Ma andiamo alla cronaca. Tutto già cambia quando siamo al terzo minuto di gioco, quando sulla ribattuta di un tiro di Ferraro, Niang si fa trovare pronto ad infilare la rete marchigiana. Il Monticelli tenta la risposta solo al ventunesimo con Gesue, ma Venturini è bravo a tuffarsi. Non abbassano la concentrazione neanche un istante in Granata e vengono premiati perché al ventitreesimo Santoro, servito da Ceria, mette la firma sul 2-0. Non scocca neanche la mezz'ora. Siamo al ventinovesimo e c'è spazio per il terzo gol dei padroni di casa. Stavolta è Santoro che, ricambiando il favore, serve a Ceria la palla per il 3-0. Sul vantaggio di casa si va negli spogliatoi. Il Monticelli sembra deciso da accorciare le distanze. Ci prova Galli al quinto minuto a tu per tu con Venturini, che provvidenzialmente riesce a sventare il suo attacco. Al dodicesimo è sempre Galli che va alto di un soffio. Non accade più nulla fino alla mezz'ora abbondante. Siamo al trentacinquesimo. Ferraro, servito da De Stefano con un magistrale colpo di tacco, supera l'ultimo difensore e mette la firma sul 4-0. C'è spazio per un altro brivido qualche minuto dopo al trentottesimo, stavolta con Giglio che, su punizione di De Stefano, di testa, infila per la quinta volta la rete marchigiana. Siamo al quarantottesimo e il sesto gol arriva ad opera di Cerase che, come se ce ne fosse ancora bisogno, chiude definitivamente i giochi con il Monticelli. Un agnone così si era vista davvero molto di rado. Non sbaglia un colpo e rimane concentrata per tutti e 90 minuti. Ci mette il cuore, ma anche la testa. Il Monticelli, oggi, ha registrato il momento più nefasto di tutta la sua storia in Serie D. Grazie. Grazie. Grazie.